benvenuti a tutti e grazie di essere connessi all'appuntamento di oggi durante questo webinar scopriremo assieme il servizio di cloud backup di aruba business il cloud backup e lo vedremo poi dopo nello specifico è un servizio che consente di gestire mantenere i propri dati in backup sul cloud in piena sicurezza rispettando le policy e dell'azienda il servizio e personalizzabile per esempio già partire dalla scelta del piano tariffario consumo ma come ho già detto prima i miei colleghi andranno poi nel nello specifico del servizio e oggi siamo sempre in compagnia dei miei colleghi aruba business matteo soavi cto e mauro vaglietti senior sistemista di aruba business e nell'attesa che tutti i partecipanti si colleghino colgo l'occasione per dare alcune comunicazioni di servizio come sempre saremo insieme per 5 circa 50 minuti gli ultimi minuti saranno dedicati alle domande una sessione di question and answer quindi vi chiedo gentilmente di scrivere in chat domande dubbi e alla fine del webinar vedrò di dispondere alle domande nel tempo disponibile che ci rimane vi anticipo tanto che nei prossimi giorni riceverete via mail la registrazione del webinar le slide e tutte le risposte alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere oggi per maggiori informazioni comunque consultate il nostro sito e per rimanere anche sempre aggiornati o comunque per darci qualsiasi tipologia di consiglio o anche qualche domanda a posteriori dubbio che vi viene scrivete pure all'indirizzo mail webinar chiocciola staff punto ruba punto it direi che adesso è arrivato il momento di lasciare la mia parola a matteo quindi buon inizio e lasciate la parola matteo benissimo grazie buongiorno a tutti oggi insieme a mauro che fa parte insieme a me della squadra di ruba business andremo ad approfondire quello che è il cloud backup proposto sul nostro sul nostro pannello in particolare andremo a vedere sul pannello cloud come attivare il servizio di cloud backup quindi la scelta del piano tarifario e le varie region insieme a mauro poi andremo a vedere l'installazione dell'agent di common vault vedremo che abbiamo due agenti possibili possibili utilizzare due agenti all'interno del nostro sistema ma noi in particolare andremo ad approfondire il common vault configureremo il backup da pannello web e andremo a configurare la retention del nostro backup uno sguardo anche alla configurazione delle parte di alerting e una demo per come effettuare ripristo di singoli file piuttosto che un bare meta chiuderemo andando a fare una verifica all'interno del pannello di quelle che sono le statistiche